Recentemente ho avuto una riunione con il rappresentante legal di Cadena Rio, del caso di Axweston, Rubo Hotel Enterprises, dove ho informato al nostro ministerio di averne il ultimo traietto che sta passando nel progetto qui, dopo di un'inversione di 1.95 per 200 milioni di dollari. Abbiamo anche una grata notizia di annunciare che dentro di due luni, ma che sta esatto, già sono di ottobre, Weston, nel caso di qui in Rio, che sta avendo suporto in Bec, qui in Aruba. La rinnovazione è ancora cominciata nel 27 febriari, dopo di un periodo un po' difficoltoso, dove c'è un aspetto laborale, dove c'è un paquete. Nel momento non è che, in modo di informare, fuori di un inizio, nel momento in cui abbiamo investito in Andia fu, venendo a Aruba, naturalmente, rispettando la nostra linea laborale, rispettando anche il settore laborale qui è in Aruba, noi abbiamo un tipo di investito in Wellcome. E' un processo qui in Sucaminda, è differente tra i due paquete social, nel momento non è, alcun ha fatto il caso di Aruba Hotel Enterprises, e nel momento non è qui, nel programma che ci sta annunciando, sta con, dentro di 12 luni, lotto di apertura di hotel nuovo. Ci stai, ci stai, con il lotto di 450 ai 500 c'è un cappello di tappello nuovo, nel nostro mercato laborale, nel settore hotellale. Abbiamo una peticione, anche per il Presidente Legale, per il nostro puro a l'aruba, che ci stai con il cappello di tappello, per modo di fare, per modo di Rata, per modo di rire, per mezzo di raro, per essere un cappello, anche per le comunittà allasecondà, che funzionano, che tipo di lavoro non abbiamo in hotel. Inoltre, nel settore hotel, è stato conosciuto, ha diversi funzioni, nel mercato abbiamo esperienza, e un viaggio a più, è stato sicuramente con buona notizia per il motivo che abbiamo creato il lavoro per le persone che si desempleano. Inoltre, è calcolato, con la nostra rinca, la cifra di desempleo per il 2014 è la proiezione, e la proiezione di Weston ha avuto un'economia per il fine dell'anno, inizio di anio, che non è toccato, questa è la mia vita più avanti, magari ha un'influenza positiva, ma è la proiezione laborale, non ci sono mai esprimato, non ci sono mai esprimato, per il motivo che non ci sia la prossima ronda di proiezione, però, sicuramente, se un proiezione è chiaro per il tempo, automaticamente, è stato appogliato la proiezione laborale. Bisogna anche il desarrollo, per esempio, di Tierra del Sol, in un certo momento, ha annunciato la banca rotta e la compagnia qui, l'AWE, non ci sono mai esprimato, perché è stato un esforzo grande di parte del governo, per purtroppo di mantenere la Tierra del Sol abri, quando ci sono ronde 100 persone, diariamente lavorando, la Tierra del Sol continua su operazione a base di una carta del governo ad una, di loro sondire la possibilità di avere un hotel di 5 estrellas, di máximo 200 camber. E il fattore nuovo è il fatto che la Tierra del Sol mantiene la porta in abri, mantenendo 90 per 100 persone a tornare a lavorare in un periodo che è tornato facile per arrivare a un emplio, che non sono più satisfezzi con le decisioni del governo, ma di appogliare il nostro mercato laborale, di appogliare la nostra economia, e, in caso, anche il settore turistico, che è stato un approccio di oggi. Mi chiede una informazione rilevante, che nel momento in cui abbiamo fatto il calcolo, come il Ministero di Labora, come il Departamento di Labora, la cifra di desempleo, il tipo di proiezione, di un'indicazione di oggi, il factor di oggi, per il tempo di proiezione. E, in caso, il nostro Ministero di mentione, che magari è il factor di oggi, per il lavoro di un'immagrazione più positivo del mercato laborale.